Il prete sorprende un uomo nel confessionale, ladro di offerte identificato dai carabinieri in sole 24 ore, avrebbe rubato circa 100 euro. Scappa alla vista dei militari e getta la droga nel bagno di un bar, denunciato a Pesaro un giovane che aveva con sé anche un coltello. Un'opera non sicura, né lineare, economica e attrattiva. Il comitato Ciclovia del Metauro critica il progetto della regione sul tracciato ai margini dell'ex ferrovia, lanciato un appello ai sindaci dei territori coinvolti. In via Traves punta un nuovo cartello con il limite di velocità, ma non si placa la protesta dei residenti. Per Giorgio Francolini nulla è cambiato in questi mesi e i controlli non ci sono. La nuova viabilità è pericolosa e il comune fa orecchie da mercante. Il barometro delle cipolle di Urbani ha parlato, pioggia e neve fino a marzo, poi primavera ed estate tardive. Ecco come sarà il mezzo 2022. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo con la cronaca. I carabinieri del comando provinciale di Pesero e Urbino hanno identificato in 24 ore un ladro di offerte. Alcuni giorni fa, all'ora di pranzo, il parroco della chiesa di Osteria Nuova di Montellabate aveva sentito dal suo appartamento un rumore di mobili spostati all'interno della chiesa. Il prete, che aveva deciso di verificare quanto stesse accadendo, si è trovato di fronte a un uomo che stava rovistando all'interno del confessionale. Alla richiesta di spiegazioni l'estraneo aveva risposto di aver voluto curiosare. Preoccupato per lo strano atteggiamento, il religioso aveva accompagnato l'uomo alla porta e richiesto l'intervento dei militari della stazione di Montecchio di Vallefoglia. Visionando le immagini del circuito di videosorveglianza, i carabinieri hanno scoperto che l'uomo aveva rovistato in diversi mobili, compreso quello all'interno della cappella che conteneva le offerte dei fedeli. Il lucchetto era stato forzato e i soldi ormai spariti. L'ammanco, che il prete non ha saputo precisare, è stato di circa 100 euro. Il giorno seguente, al parroco sono state sottoposte alcune fotografie della persona in questione che ha riconosciuto. Si tratterebbe di un 34enne argentino, residente nella provincia di Rimini, già aggravato da diversi precedenti penali e che ora dovrà difendersi in giudizio dall'accusa di furto aggravato. E intanto proseguono i controlli dell'arma dei carabinieri al parco Miralfiore, alla stazione Ferroviaria e in piazza Falcone Borsellino. Nei giorni scorsi, i militari delle stazioni di Pesaro e Isola del Piano, coadiuvati dal nucleo Cinofili e dal collega Quattro Zampe Bob, hanno identificato una trentina di persone. Durante le operazioni, un 24enne della Guinea, disoccupato e incensurato, alla vista delle forze dell'ordine, si è precipitato all'interno di un bar. I carabinieri lo hanno seguito fin dentro al bagno del locale, dove è stato sorpreso nell'atto di scaricare l'acqua del WC, nonostante vi fosse appena entrato. I sospetti, generati dal suo comportamento, sono stati avvalorati anche dalla reazione del cane antidroga, che ha indicato la possibile presenza di sostanze stupefacenti. Il giovane, infatti, è stato trovato in possesso di 21 grammi di hashish, suddivisi in sette dosi e di un coltello lungo 18 centimetri. Dopo la perquisizione, il ragazzo è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti del caso e poi è stato denunciato a piedi libero. 300 controlli e un totale di oltre 7 mila euro di sanzioni al bilancio della vigilanza ambientale che è stata svolta nel comune di San Costanzo, grazie al lavoro dei vigili urbani e degli ispettori di Aset Spa. Le segnalazioni di degrado ai casi di abbandono rifiuti nel territorio comunale di San Costanzo non rimangono impuniti. Questa è la valutazione sul resoconto fornito dal comandante Andrea Rovinelli, che oltre alle attività proprie del corpo di polizia locale, riassume anche quelle del servizio degli ispettori ambientali Aset, avviato nel 2021 e confermato per il 2022. Durante l'anno appena concluso sono stati effettuati oltre 300 accertamenti tra sopralluoghi, segnalazioni e verifiche fotografiche che hanno portato alla rilevazione di 40 verbali, di cui 24 a seguito di accertamenti degli ispettori, 7 attraverso telecamere e fototrappole e 9 mediante servizi di appostamento e rovissamento di rifiuti per un importo totale accertato di sanzioni amministrative di 7.350 euro. A questo va aggiunta una denuncia penale che, a seguito dell'attività di indagine svolta in collaborazione con il commissariato di polizia e del comando dei vigili urbani di Fano, ha portato all'individuazione dell'autore dell'abbandono di 1.500 kg di pneumatici nelle isole ecologiche di San Costanzo e Fano. L'attività di vigilanza non ha riguardato solo l'accertamento di illeciti e violazioni del regolamento comunale, ma anche un'attività di informazione alle utenze domestiche ed attività economiche sul corretto conferimento di rifiuti e il controllo dei conduttori di cani sui dispositivi obbligatori per la raccolta delle deiezioni. Consideriamo questa attività, ha dichiarato l'assessore all'ambiente Stefano Giraldi, una forma di responsabilità per rispetto di tutte le persone che, con elevato senso civico, adottano comportamenti corretti nella gestione dei rifiuti e che spesso non possono godere di situazioni di decoro adeguate a causa di pochi. Incidente tra due tir questa mattina alle 10 lungo l'autostrada A14 tra Pesaro e Fano. I due mezzi stavano viaggiando in direzione sud quando, per causa in fase di accertamento, si sono tamponati al chilometro 170. Ad avere la peggio è stato il secondo mezzo pesante. Sul poso il 118 e la polizia stradale, inevitabili disagi al traffico con code di diversi chilometri. Invece a Bellocchi di Fano si sono scontrate due auto. Questa mattina intorno alle 12.30 una 57enne alla guida di una Honda stava percorrendo via Inaudi verso Monte e giunta alla rotatoria di via Ottava Strada non ha dato la precedenza a una Ford condotta da un uomo di 37 anni che, proveniente dalla sua sinistra, era all'interno della rotatoria intento a proseguire la marcia in direzione Pesaro. Per il veicolo Honda, essendo a metano, è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e di una ditta specializzata per la pulizia del manto stradale a causa della perdita di olio. Nessun conducente avrebbe riportato lesioni sul posto i vigili urbani per i rilievi di legge. Non si placano le polemiche in via Trave a Fano sulla nuova viabilità. Il residente Giorgio Francolini continua a denunciare pericoli per auto e pedoni, ma anche pochi controlli dei vigili urbani. Le tante proteste e gli appelli lanciati al Comune per mesi non sono serviti. In via Trave a Fano resta il cambio di viabilità voluto dall'assessore Tonnelli e dalla Giunta Seri. Sono stati introdotti rotatori e restringimenti della careggiata e una nuova segnaletica orizzontale e verticale. Da una settimana poi è spuntato anche questo cartello che impone di rallentare e il limite di velocità a 30 km orari. Limite che secondo diversi residenti non viene rispettato e in tratti come questo continuano i disagi e i pericoli per conducenti, ciclisti e pedoni che attraversano la strada. Giorgio, dopo gli ultimi provvedimenti, qual è la situazione qua in via Trave? Non è cambiato nulla, indifferenza totale nei confronti nostri. Io credo nei confronti dei cittadini perché i problemi di via della Trave ce l'hanno in altre situazioni, in altri quartieri, in altre vie di Fano. Sono indifferenti, se ne fregano completamente. Stanno seduti nei loro uffici, amministratori, comandanti dei vigili, tutti. Noi non contiamo assolutamente niente. Però è stato installato un cartello? Un cartello, sì, che non serve a niente perché basta vedere, nessuno va a 30 all'ora. Questo è chiaro, hai messo un cartello, fai in modo che la gente lo possa rispettare. Non lo rispettano, controlla, controlla, controlla. Quindi ci vogliono i vigili. In alternanza, quello che noi chiediamo da sempre, dall'inizio delle nostre dimostrazioni, è un autovelex. Comunque chiedete anche più controlli? Più controlli, più controlli, assolutamente. Io inviterei il sindaco, il comandante dei vigili, a venire alle 7 qua. Le macchine alle 7 vanno a 100 all'ora, dalle 9 e mezzo di sera in poi vanno a 100 all'ora. E questo è giusto? No. Allora? Ecco, nei giorni scorsi le aveva attaccato anche dei bigliettini su questo cartello. Che fine hanno fatto? Sì, erano dei bigliettini a modi battute, dicendo che possono andare anche 100 all'ora, tanto nessuno controlla. Me le hanno tolti ieri, purtroppo. Mi dispiace molto. Non si vedevano molto, però non si vedono questi cartelli. A maggior ragione non si vedevano. E questa è la situazione. A me dispiace, perché da Fanese mi dispiace molto, che l'immobilismo è... perché vedi sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico. Invece il Comitato Ciclovia del Metauro torna a criticare il progetto della Regione perché è ritenuto non sicuro né economico e attrattivo. Da qui l'appello ai sindaci dei territori interessati. Un lavoro che mette in evidenza le numerose contraddizioni del progetto definitivo della Ciclovia turistica del Metauro, che la Regione Marche ha pubblicato nel luglio 2021, cancellando un precedente progetto già approvato e finanziato da realizzare ai margini della ferrovia dismessa a Fanurbino. E' questo l'obiettivo del documento presentato oggi dal Comitato Ciclovia del Metauro, che denuncia un'opera non sicura e nemmeno lineare ed economica. Vogliamo tenere alta l'attenzione sul tema, ha dichiarato Renzo Rovinelli, perché entro il 31 dicembre 2022, ha detto, devono essere espletate tutte le pratiche burocratiche e amministrative per non perdere i finanziamenti a fondo perduto previsti dall'Unione Europea per la realizzazione dell'opera a fianco dei binari. Il problema è che le soluzioni che si stanno prospettando sono soluzioni che contrastano con le normative, nello stesso tempo non è funzionale né attrattiva, e questa è una cosa che potrete esaminare, e con tutta franchezza noi riteniamo che questa situazione che si è creata con lo studio di fattibilità, dato RFI, stia bloccando un po' tutto il meccanismo, nel senso che questo studio che doveva essere presentato entro un anno fa, è stato spostato, rispostato, ancora ad oggi, al 31 di gennaio, non è stato ancora presentato, non se ne vede traccia, nessuno sa nulla, e crediamo che questo elemento stia bloccando anche qualsiasi altra soluzione futura. Senza voler guastare i sogni di chi vuole ripristinare i treni, di chi vuole spostare le ferrovie, ci interessa esaurire il campo del possibile, che in questo caso è l'utilizzo di 4 milioni e mezzo per dare una viabilità ai ciclisti che sia sicura e attrattiva dal punto di vista turistico. Secondo il Comitato, il progetto regionale prevede l'utilizzo di percorsi preesistenti o da creare ex novo che renderebbero la ciclovia pericolosa e disagevole. Ad entrare nei dettagli è Enrico Tosi, che illustra le notevoli differenze con l'opera suggerita dal Comitato e tracciata in verde. Non c'è neanche il rispetto delle norme previste dalla legge numero 2 del 2018, che codifica le ciclovie, dice come devono essere fatte, cioè in sostanza devono essere a doppio senso di marcia, sicure e agevoli per tutti. C'è da dire che in gran parte del percorso è prevista, è inevitabile la condivisione con il traffico a motore. Quindi immaginiamo come possano dei turisti sentirsi al sicuro in un percorso in condivisione con gli automobili, i trattori, i motorini e cose del genere. Inoltre ha proseguito Tosi, questo percorso dovrebbe essere economico ma non lo è. Infatti sono previsti sei nuovi ponti ciclopedonali, pur essendoci quelli inutilizzati per l'ex ferrovia, un muro di cemento armato di 340 metri in zona Fossombrone e l'allargamento della sede stradale per 350 metri. Tutti i lavori, ha spiegato Tosi, che non sarebbero necessari se, come sostiene da sempre il comitato, si utilizzasse il percorso abbandonato dell'ex ferrovia senza mettere in discussione l'eventuale riutilizzo del sedime. Perché RFI ha blindato questa parte centrale del percorso per un eventuale ritorno di un treno turistico. Quindi che cosa chiedete alla Regione e ai vari sindaci? No, noi auspichiamo che siano i sindaci a prendere iniziativa. Loro conoscono bene quali sono le esigenze dei territori. Tra l'altro quelli nuovi si sono già espressi in maniera molto netta su questa vicenda. Quindi noi speriamo che siano loro a prendere iniziativa per avviare finalmente il recupero di questo bene collettivo abbandonato da 35 anni che può dare uno sviluppo formidabile all'intera vallata del Metauro. La storia di Giulio Reggeni è una ferita che continua a sanguinare. Finché non si rimargineranno smetteremo di chiedere verità. Il sindaco Matteo Ricci insieme al presidente del Consiglio Comunale di Pesaro, Marco Perugini, ricordano il ricercatore italiano scomparso al Cairo in Egitto nel 2016. Continuiamo a diffondere con forza la voce di Giulio, ha proseguito il primo cittadino, affinché questo crimine non rimanga impunito e i suoi valori continuino a vivere. Per ricordare il giovane e la sua battaglia, oltre allo striscione che sventola dal balcone di Piazza del Popolo, il Comune ha deciso di illuminare di giallo via San Francesco. Cambiamo argomento perché è arrivato il nuovo risponso delle cipolle di Urbagna, come da tradizione il barometro più famoso del nostro territorio. Questa mattina ha parlato, rivelando quale sarà il meteo per il 2022. Filippo Pucci. Anche per questo 2022 il barometro delle cipolle ha parlato, grazie all'antica tradizione che ogni anno la signora Emanuela Forlini di Urbagna segue attraverso l'esposizione degli spicchi di cipolla nella notte di San Paolo, ovvero tra il 24 e il 25 gennaio. In estrema sintesi, ci aspetta un inverno ricco di precipitazioni, anche nevose, fino a marzo con temperature rigide. La primavera arriverà in ritardo e il bel tempo lo avremo dal mese di maggio, mentre l'estate partirà con belle giornate da giugno. Autunno sarà caratterizzato da pioggia per poi attenuarsi e con temperature rigide. Ma veniamo alle previsioni mese per mese. Il cambiamento arriverà nei giorni del 29, 30 e 31 gennaio, ovvero i giorni della merla, con temperature molto fredde. Febbraio sarà contraddistinto da precipitazioni sia piovose che nevose. Marzo instabile, con temperature invernali, pioggia e qualche nevicata. Nel mese di aprile sarà la pioggia a padroneggiare, a differenza di maggio. Giugno variabile, con giornate a tratto soleggiate e altre piovose. Luglio sarà caldo, come anche ad agosto, caratterizzato da belle giornate di sole, tipico dell'estate. Il bel tempo prosegue anche nel mese di settembre, mentre ad ottobre arriveranno le prime piogge con tempo variabile. Novembre nebbioso, con assenza di precipitazioni, e un dicembre rigido, con gelo, freddo, ma senza neve. Riqualificare, potenziare e modernizzare Santa Croce di Fano sono queste le richieste avanzate dal sindaco Massimo Seri, che ha incontrato l'assessore regionale Francesco Baldelli. Il primo cittadino ha rimarcato l'importanza e il ruolo strategico svolto dal Santa Croce, non solo per Fano, ma anche per il bacino delle vallate del Metauro e del Cesano. In merito alla progettazione edilizia in ambito sanitario, Seri ha chiesto alla regione l'impegno concreto affinché l'ospedale fanese sia una struttura all'avanguardia e posta sullo stesso piano di altre nuove strutture programmate nel nostro territorio. Ho specificato la necessità, ha detto il sindaco anche alla luce delle conseguenze della pandemia, che il nosocomio cittadino venga considerato un'eccellenza dotata di una struttura moderna, all'avanguardia e funzionale. A tal proposito, ritengo prioritario, ha concluso, espandere gli spazi e riqualificare quelli esistenti, intervenendo sia per le attività di emergenza sia per tutto ciò che riguarda gli acuti. Adesso apriamo l'album di Fano TV perché questa sera dobbiamo fare gli auguri a Ornella Battistelli e Adriano Baldelli, residenti a Fano, che ieri hanno festeggiato 51 anni di matrimonio. Il nostro telegiornale termina qui, l'informazione torna domani mattina in diretta alle 7 con Occhio ai giornali condotto da Massimo Fughetti. Buona serata.